ripuliti in profondità i fossati delle due torri aragonesi di via marina sono riemersi i basamenti da lungo tempo nascosti dal fango e dal sudiciume ai piedi della quattrocentesca torre spinella e ricomparsa la porta di accesso alla prigione murata da decenni la torre tristemente nota in epoca borbonica come guardione dei birri accoglieva i condannati a morte nelle ore che precedevano l'esecuzione in questo guardione che era chiamato anche comunamente il guardione dei birri e leonora gli altri martiri del 99 ma non solo loro trascorsero le 24 ore dell'anticamera della morte l'ultimo tragitto iniziava da qui e proseguiva per tutto l'arco della cinta muraria del castello del carmine ovviamente un castello del quale oggi resta poco e niente fatto questo tragitto i condannati oltrepassavano un vicoletto oggi inesistente che era chiamato il vicoletto dei sospiri da lì accedevano a piazza del mercato passando sotto l'arco di sant'eliggio il progetto di restauro delle due torri sarà completato entro l'autunno attraffano l'antica attraffano l'antica attraffano l'anima attraffano l'antica